Musica Ehm, bella ragazzi, qui è Cyper E oggi sono qui a fare questo video Glitch di come avere il torso invisibile Quindi ragazzi, pancia Più spalle Ehm, è semplicissima la cosa Allora, basta che ci rechiamo in un Negozio di vestiti, andiamo Vicino il bancone e Mettiamo un completo standard Io scelgo il bagnante Subito dopo andiamo a Ci rechiamo nella parte superiori E Scegliamo, andiamo su maglietti Da baseball e togliamo la maglietta Una volta fatto ciò, teniamo a schiacciare Il touchpad e andiamo su Stile, accessori, poi ci Andiamo sopra i guanti E con la freccia destra andiamo Su da pilota marroni, fatto questo Andiamo su catenine e dobbiamo Cliccare X su catenine Poi guanti, catenine di nuovo E facciamo così finché Non ci verrà il torso invisibile Come potete vedere ragazzi Ora mi è venuto il torso invisibile Beh ragazzi, spero che Glitch vi funzioni Se è così, vi invito a lasciare 20 like per il prossimo video E niente ragazzi Un bel like, un'iscrizione E condividete Bella ragazzi E non ti Non ti Non ti Non ti Non ti Non ti Grazie a tutti.